Questo è un appuntamento al quale teniamo ad esserci e ad onorare i caduti ed i martiri Giuliano Dalmati. E non possiamo fare a meno di far notare come a Pesaro questa giunta si è praticamente rifiutata di fare come hanno fatto altre 100 città d'Italia di onorare Norma Cossetto dedicandole un luogo pubblico significativo come richiesto oltre che con una mozione in Consiglio Comunale anche da più di 200 cittadini con delle firme protocollate depositate in comune. Non abbiamo avuto risposta se non in Consiglio Comunale dove la mozione praticamente è stata bocciata dalla maggioranza e alle nostre richieste, cioè nostre e di tanti cittadini pesaresi per una dedica di un luogo pubblico significativo Norma Cossetto non c'è stata risposta. Quindi praticamente Pesaro si rifiuta di onorare i profughi Giuliano Dalmati nella figura di Norma Cossetto medaglia d'oro al valore civile insegnata da Carlo Zeglio Sampi, dal presidente Carlo Zeglio Sampi è una martire italiana sostanzialmente.